E ritorniamo in studio. Saranno pubblicati oggi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i bandi per la realizzazione dei lotti 7 e 8 della Sassari Olbia per un importo lavori totale di quasi 190 milioni di euro e per più di 15 chilometri di tracciato. Lo ha annunciato ieri mattina a Sassari il presidente, commissario straordinario dell'infrastruttura Ugo Capellacci. Siamo giunti così al giro di boa delle gare per la nuova strada, ha aggiunto Capellacci a margine della cerimonia in occasione della visita del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ad oggi abbiamo pubblicato i bandi per i lavori dei lotti 0, 1, 9 e Ponte Padrongianus, ai quali si aggiungono appunto il 7 e l'8. Restano i bandi per i lotti dal 2 al 6, più gli interventi dell'aeroporto di Olbia. Con i lotti 7 e 8, ha concluso il presidente della regione, stiamo pubblicando i bandi tra i più rilevanti in termini economici. E ci spostiamo all'aeroporto di Alghero dove salgono a 35 le destinazioni. A quelle internazionali si aggiunge da maggio anche Praga, capitale della Repubblica Ceca. Il collegamento presentato questa mattina dalla Sogeale e dal tour operator Sardegna Travel sarà operato dalla compagnia Smart Wings. A partire da maggio Alghero sarà collegata anche con la Repubblica Ceca. Salgono dunque a 35 le destinazioni con lo scalo catalano, 23 internazionali e 12 interne. Presentato questa mattina in aeroporto in un incontro con la stampa, aperto dal presidente della Sogeale, Luzzati, il nuovo collegamento con Praga che sarà operato dalla Smart Wings. Si tratta della più grossa compagnia aerea ceca privata nata nel 97 e che opera sia con charter che con low cost. A presentarla ai giornalisti è stato il manager Raffaele Ciaravola che ha messo inoltre in evidenza come la Smart Wings ad oggi trasporti più di 3 milioni e mezzo di passeggeri volando su 250 aeroporti. In Italia sono circa 107 mila passeggeri trasportati e con Alghero ad oggi sono tre le mete sarde dopo Cagliari e Olbia. Boeing 737-800 da 189 posti trasporteranno come detto il giovedì dal 24 maggio al 4 ottobre passeggeri da e per la Repubblica Ceca. E' stato poi Antonio Costantino, presidente della Sardegna Travel, presente questa mattina in conferenza insieme al direttore commerciale Martina Costantino a parlare di questo nuovo collegamento che dà la possibilità al nostro territorio di creare un ulteriore indotto con il mercato ceco. Il responsabile del tour operator ha ringraziato per la disponibilità sia la Sogeal che la fondazione Meta con la quale si sono studiate offerte per incentivare l'arrivo di nuovi flussi. Ci auguriamo, ha detto Costantino, di incontrare la collaborazione di tutti gli operatori turistici. Questa è un'ulteriore opportunità per lo sviluppo e la diversificazione del nostro network, ha affermato poi Mario Peralda, direttore della Sogeal, ed incrementa la possibilità di sviluppo turistico ed economico a favore del territorio, cui spetta la sfida di saper fidelizzare e consolidare questa rota attraverso le più donne e iniziative di accoglienza. Una formula innovativa per questo collegamento è inoltre spiegato Martina Costantino, che consente non solo l'acquisto del biglietto tramite internet, ma anche la possibilità di acquistare un pacchetto che offre un servizio di outgoing e di incoming completo di tutti i servizi. Il tutto cliccando sul sito www.viaggiapraga.com E a conclusione della conferenza stampa abbiamo sentito il direttore della Sogeal, Mario Peralda, che ha parlato di questo nuovo collegamento, ma ha fatto anche un passaggio sul futuro dell'aeroporto e sullo sblocco da parte dell'Unione Europea riguardo gli aiuti di Stato. Sentiamo un estratto di questa intervista che andrà in onda in versione integrale, subito dopo i telegiornali. Mario Peralda, direttore dell'aeroporto di Alghero, un nuovo collegamento verso Praga, un momento importante comunque? Un momento molto importante, chiedo scusa per la voce, il figlio di una strategia di crescita e di ampliamento del network deve tenere conto di un partner pesante e principale che vogliamo che rimanga da queste parti, ma con cui siamo riusciti a sviluppare dei dialoghi talmente intelligenti e talmente avanti da fare in modo che le posizioni che in qualche modo non creano attriti vengano occupate anche da altri vettori e questo garantisca un ampliamento del portafoglio network da parte della società senza in qualche modo creare nessun genere di problematiche di copresenza su rotte o su zone geografiche. Un passaggio finale per quanto riguarda lo sblocco della UE sugli aiuti di Stato, che cosa si può dire? È stato un percorso doloroso e complesso che ha portato per adesso a non ricevere i finanziamenti dovuti se non in forma di antecipazioni su questi finanziamenti in attesa di questo chiarimento. Da tutte le notizie in mio possesso, comprese le fonti di informazioni riguardo agli esiti dei consulenti della Commissione europea che dovrà decretare gli esiti di questa vicenda, tutto dice che ci siamo sempre comportati in maniera assolutamente coerente con quello che è consentito fare in queste occasioni e quindi non mi sorprenderebbe con le scaramanzie del caso che gli esiti venissero ad acclararsi in modo positivo per Alghero. Vi è da dire una cosa anche qua in tema di allarmismi. Qualora fosse il contrario, diciamo non crolla il terreno sotto l'aeroporto, non gli viene dato fuoco, non ci incattaneano alle croci in piazza, ma si può proporre tranquillamente un ricorso alla Corsa europea come ha fatto Charleroi sette anni fa per vedersi magari darsi ragione otto anni dopo. Il tutto in tranquilla e amabile dialettica con quelli che sono gli enti di riferimento, anche da lì. E adesso sentiamo invece l'intervista realizzata con il direttore generale di Sardegna Travel, Antonio Costantino, che ci ha parlato di questo nuovo collegamento e delle opportunità che può aprire al nostro territorio. Anche questa intervista andrà in onda subito dopo i Tg. Antonio Costantino, direttore generale della Sardegna Travel, l'importanza di questo nuovo collegamento d'Alghero per Praga? Intanto noi completiamo un circuito, che è quello sardo, perché oltre Olbi a Cagliari da quest'anno facciamo il volo anche con Alghero. Quindi credo che sia un'offerta completa per quanto riguarda la Sardegna e Repubblica Ceca. Per quanto riguarda il comparto turistico dunque un ampliamento importante? Io mi auguro di sì, è un anno particolarmente difficile questo, noi quest'anno ci crediamo, abbiamo investito molto, stiamo investendo molto e ci auguriamo di avere anche l'aiuto degli operatori turistici d'Alghero per fare in modo che questa destinazione sia maggiormente conosciuta in Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca ama la Sardegna? Direi di sì, in questi ultimi anni siamo passati da una presenza di 20.000 persone a 65-70.000 presenze in un anno, quindi direi che è cresciuta molta l'affezione dei cecchi verso quest'isola. In chiusura, l'Avis Comunale di Alghero in collaborazione con la direzione didattica del primo circolo organizzano una raccolta di sangue sabato 25 febbraio dalle 8 alle ore 12. Sarà presente l'autoemoteca dell'Avis Provinciale, l'equip medica presso la scuola elementare di Via Vittoria Emanuele. Coloro che vorranno donare il sangue quindi troveranno a disposizione l'equip. L'associazione ricorda che donando il sangue possiamo salvare la vita agli altri. Ed è davvero tutto, vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci.